buongiorno buongiorno vi parlo da napoli a casa di mia sorella sul balcone come si può vedere il vesuvio e invece qui abbiamo il conquat sono dei limoni particolari diversi dal solito una bella pianta solo che un po sofferente perché abbiamo qui anche gli altri limoncini cinesi e devo appunto togliere una e lasciarne uno in modo che ha più spazio per poter crescere e che invece abbiamo un altro alberello pieno pieno di limoni stanno facendo gli altri fiori quindi è una pianta bellissima perché così abbiamo nell'arco dell'anno sempre i frutti nuovi qua abbiamo un'altra piantina è molto più piccola rispetto a quella però diciamo incomincio a fare anche lei i fiorellini invece questa è di mandarini solo che gliela devo potare come si può vedere ha i rami secchi dopo mi darò da fare per togliere tutta questa roba secca in modo che do spazio per poter far crescere tutto questi nuovi ed ecco la piantina tutta potata ho fatto tutti i rami vecchi i rami che non servono e così farà una buona crescita ecco invece abbiamo un bell'alberello piccolo nano di albicocco molto bello sta crescendo molto bene e invece qui abbiamo le fragole tutte in fiore guardate qua che meraviglia e per finire qui abbiamo la menta nana ah dimenticavo abbiamo anche qui una di quelle piante di aloe vera che gli ho portato l'anno scorso guardate come cresce bene e per finire appunto la pianta dei soldi la grassula ovata ok spero che vi sia piaciuto questo bellissimo video ci vediamo al prossimo ciao